La parrocchia sono loro, non sono i locali, i locali però sono a disposizione di tutta la comunità. Questa è la casa comune, la casa di tutti. C'è posto per tutti, nessuno deve sentirsi escluso. Sono contenta perché mio figlio del resto non ha molto spazio dove giocare, quindi qui in questo luogo potrà quantomeno confrontarsi e gioire. Si stanno svolgendo attività di laboratorio per uno spettacolo finale che li vedrà protagonisti nel riciclo della plastica e di tutti i materiali a cui vogliamo educare per rispettare il nostro ambiente, la nostra città e per crescere tutti insieme all'insegna dei valori della legalità, del rispetto del prossimo e della solidarietà. Un grazie a tutti i volontari che sono venuti a fare proprio volontariato con spirito di servizio e con amore per questo paese. Questo è il secondo anno nel quale realizziamo un'iniziativa bellissima che coinvolge tutti i bambini di una ampia fascia d'età e che li fa riappropare di un bene comunale, qual è la Villetta San Giuseppe, che è stata recuperata in questi giorni grazie anche all'aiuto di alcuni PIP che prestano il loro servizio presso la parrocchia di San Giuseppe e che hanno riportato alla luce un bene comunale che era in disuso. Finalmente i bambini se ne sono appropriati attraverso questi laboratori di riciclo e di ludico ricreativi che gli permettono di impegnare del tempo che altrimenti sarebbe dedicato ad attività meno di coinvolgimento e meno di formazione personale per le loro famiglie. Un plauso va all'associazione Erripa e alla parrocchia di San Giuseppe ma anche all'amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto e che sarà sicuramente un primo successo, il primo di una lunga serie di successi.